Cari naviganti, bentornati, 54esima puntata del colonne d'Ercole. Allora oggi, nella puntata di oggi e anche nella prossima, analizzeremo un po' quella figura strana, enigmatica e carismatica sicuramente per tanti versi che è stato Stanley Kubrick. In particolare ovviamente lo tratteremo secondo quello che interessa più a noi, cioè parlando di colonne sonore, del suo rapporto quasi sempre travagliato e quasi sempre problematico con i compositori del suo colonne sonore. Quando c'è stata una colonne sonora? Perché in molti casi vedremo che in realtà una colonne sonora non c'è stata, è stata rifiutata, è stata cambiata, ne è stata venuta una minima parte, insomma. Vedremo un po'. Allora, perché ho chiamato questa puntata Kubrick il regista nemico dei compositori? In realtà lui era nemico un po' di tutti, nel senso che era una persona abbastanza d'indole misantropa, con un carattere abbastanza chiuso, uno che non amava l'intervista, non amava molto incontrare perfino i suoi emiratori, non amava incontrare pochissime persone, diciamo. Kubrick insieme a Scorsese e a Tarantino sono sicuramente i miei tre registi americani preferiti. La capacità che ha avuto Kubrick, che tra l'altro sul senso Tarantino ha avuto molta influenza, la sua capacità di spaziare tra generi diversi e lasciare in ognuno di essi una traccia così forte, così indelebile, è senz'altro un unicum nella storia del cinema. La maniacalità e la precisione di Kubrick sono ormai pura leggenda, così come le sono le sue trovate tecniche, la sua capacità di superare i limiti della tecnologia cinematografica del suo tempo e la simmetria delle sue inquadrature, famosissima quella di Shining, ma vale così per quasi tutti i film, soprattutto della seconda parte della sua produzione. Non per niente probabilmente sapete che c'è una legenda metropolitana che vuole che Kubrick sia stato il regista dietro il finto, o il presunto finto, al lunaggio lunare del 1968, in tanti dico non siamo mai stati sulla luna, è tutto stato creato in uno studio cinematografico. La direzione di questo studio cinematografico sarebbe stata appunto di Stanley Kubrick, che appunto per le sue capacità anche tecniche di Cineas, di prevenire anche i tempi, di superare le difficoltà tecnologiche che ci potevano essere, sarebbe stato l'unico, come dire, capace di poter rendere credibile l'incredibile agli occhi di tutto il mondo. Ma da dove deriva fondamentalmente questa legenda metropolitana? Deriva fondamentalmente dal fatto che nello stesso anno in cui c'è stato l'allunaggio, ovvero, presunto che sia, non ci interessa in questa sede, Kubrick ha girato 2001 Odissea nello spazio. Come ho detto prima, superando una serie di questioni tecniche, anche dal punto di vista meramente cinematografico, sulla credibilità della scena, che erano veramente straordinari, insomma. Quindi questa cosa ha portato all'abbinamento. Ma di 2001 Odissea nello spazio parleremo meglio la prossima volta. Oggi invece ci limitiamo, come dire, a una panoramica sulla sua produzione cinematografica, con ovviamente un focus particolare su quello che ci interessa, cioè sulle colonne sonore. Allora, intanzitutto è curioso che una carriera quasi cinquantennare come quella di Kubrick abbia prodotto solo, tra virgolette, 13 film. Verrà anche, insomma, che tanti di questi film sono stati veramente delle pietre miliari, non solo del cinema di Kubrick, ma del cinema to court. Perché così pochi film? Innanzitutto perché la preparazione che lui faceva per i film era lunghissima ed era estenuante, potrebbe durare anche due anni, tre anni di preparazione in certi casi. La preparazione o preproduzione è un qualcosa che la maggior parte del pubblico fondamentalmente ignora. Ma è una fase molto importante e molto lunga e molto dispendiosa del processo di creazione di un film. Non si limita solo, ovviamente, nella scrittura del soggetto e della sceneggiatura. Insomma, questo è fin troppo evidente. Ma serve proprio per capire anche lo sforzo produttivo che servirà. Cioè serve a fare i sopralluoghi, a trovare le location, a porsi prima la soluzione di tutti quei problemi che poi verranno durante la fase di ripresa e fare in modo appunto che questi problemi non sorgano durante le riprese, cosa che comporterebbe un aggravio di costi sulla produzione. Cioè fermarsi perché c'è stato un problema che prima non è stato considerato o perché banalmente serve una location che prima non era stata prevista, la produzione produttiva sarebbe devastante. Insomma, quindi tutte queste cose vanno considerate nella fase di preproduzione. Io divido la sua produzione cinematografica, i suoi 13 film fondamentalmente in tre parti. I primi quattro film, che pur essendo degli ottimi prodotti cinematografici, sono dei film abbastanza tradizionali. Poi i tre film che secondo me sono quelli della produzione di mezzo, cioè Spartacus, Lolita e Dottor Stranamore. Spartacus in particolare sarà importante per l'evoluzione musicale del suo linguaggio cinematografico, lo vedremo più avanti. E poi quello che, sempre nella mia personalissima opinione per quello che può valere, è il Trentennio d'Oro, cioè quello che va dal 1968 al 1999, nel quale lui sforna sei capolavori incredibili come, in ordine tecnologico, 2001 di Sienno Spazio, Arancia Meccanica, Barry Lyndon, Shining, Full Metal Jacket e Ice White Shot. Al netto di ogni gusto personale, almeno quattro di questi sei film sono pietre migliaia della storia del cinema e su questo credo che pochi potrebbero trovare qualcosa da eccepire. Ma partiamo dall'inizio. Kubrick era un grandissimo appassionato di musica classica, ma anche contemporanea. Anzi, considerate una cosa, quella parte della sua produzione che usa musiche di Lighetti, insomma di tutti questi compositori, della prima e in parte addirittura seconda a metà del Novecento. in realtà ai tempi era musica veramente contemporanea, quindi lui vuol dire che lui, oltre a conoscere i grandi classici che andavano veramente da Mozart in avanti, era veramente un grande appassionato di musica, anche contemporanea, che poi col tempo è diventata musica classica. Nera un profondo conoscitore appunto che tutto sommato lui non vedeva la stretta necessità di averne i suoi film una colonna sonora originale. Infatti tutte le score per i suoi film hanno avuto sempre esiti complicati e abbastanza travagliati. Cioè in sostanza lui diceva è stata scritta così tanta musica che gli sfuggiva la necessità di avere una score originale. Cioè basta prendere la musica, trovare la musica adatta a quello che è l'esigenza cinematografica, visiva, estetica, artistica del regista. Anzi lui diceva una cosa anche peggiore, se vogliamo prendere per noi poveri compositori. Cioè lui diceva fondamentalmente ma per quanto siano bravi i compositori ci sono oggi, nessuno mette in dubbio, ma tu vuoi mettere chi potrebbe essere messo al paragone di un Beethoven, di un Berlioz, di un Mendelssohn, di un Wagner, eccetera, eccetera. Insomma, estetica appunto che poi lo ha portato a fare una serie di scelte artistiche, produttive molto estreme. Allora come ho detto, la prima parte della sua produzione sui primi quattro film sono dei film tutto sommato tradizionali, ancorché dei film molto belli, girati molto bene, ma anche al punto di vista della colonna sonora, come dire, non ci danno particolari suggestioni e particolari stimoli, diciamo così. Io credo che invece sia focale nella sua produzione Spartacus del 1960, qui vediamo qualche immagine, con la colonna sonora scritta da Alex North, che vedremo molto meglio nella prossima puntata quando parleremo di 2001 Odissea nello spazio, che è stata un'ottima score, non molto amata dai suoi compositori contemporanei, i compositori contemporanei di Alex North, probabilmente perché North aveva usato veramente delle suggestioni sonore molto particolari, molto originali, avevo usato alcuni strumenti che si usano relativamente poco, ancora oggi, tipo il sarusofono, insomma, quindi tutta una serie di strumenti che davano un timbro molto particolare, anche molto originale a questa score. Ma avevo usato anche l'ondolin, cioè che è fondamentalmente uno strumento elettronico, non era il primo momento in assoluto che veniva utilizzata la musica elettronica nel cinema, Mario Nashimbiene l'aveva fatto anche qualche anno prima, e un giorno prima o poi dovremmo parlare di Mario Nashimbiene, che è stato un talento incredibile nel nostro film, misconosciuto per certi versi, almeno al grosso pubblico, ma con una produzione veramente incredibile. Ora, senza entrare nel dettaglio delle musiche di Spartacus, di cui magari potremmo parlare una volta prossima, vi basti sapere che quello dal punto di vista musicale è stato un film molto importante per lui, perché è stato il momento in cui lui ha capito che la funzione della musica nel film non era semplicemente un commento ancorché bello, ancorché ben fatto, magari con dei bei temi, ma che potrebbe essere veramente un grossissimo, un fortissimo alleato per il regista. Nel 1971 esce Arancia Meccanica, film incredibilmente visionario, incredibilmente avanti per tantissime cose, insomma, che tutti abbiamo, credo, visto e tutti abbiamo amato visceralmente. In questo film Kubrick usa delle musiche classiche, fondamentalmente di Rossini, di Beethoven e anche di Elgar, che peraltro era ancora abbastanza un compositore contemporaneo a quei tempi, e le usa però, passando attraverso il sintetizzatore, tramite l'apporto di Wendy Carlos, che è stato uno dei più grandi pionieri nella musica elettronica già dagli anni 60 e 70, che quindi trasforma queste musiche classiche in un qualcosa di più moderno, di più avanzato. Anche con Barry Lyndon nel 1975 il compositore avrà un rapporto difficile con Kubrick. Leonard Rosenman, che è stato un grande compositore, anche premio Oscar, scrive delle musiche appositamente per il film, che però non verranno utilizzate. Fondamentalmente quello che gli verrà richiesto sarà di riorchestrare, riarrangiare alcune musiche, come la starabanda di Handel, Cereberry, ma è stato usato in tantissimi film, in tantissime pubblicità, eccetera, eccetera, e come il British Grenadiers, che è una musica militare tradizionale dell'esercito inglese. Nel 1980 esce un altro capolavoro incredibile, Shining, tratto in un romanzo di Stephen King, che tra l'altro non amerà particolarmente la sceneggiatura del film, e poi ne scriverà lui uno per una serie televisiva, che però sembrava ovviamente un successo di gran lungo in fioro da quella che aveva avuto il film. Ancora una volta, Kubrick non vede la necessità di fare una score originale, si rivolge ancora a Wendy Carlos, come era stato nel 1971 per Arancia Meccanica, e Carlos prende il materiale della Sinfonia Fantastica di Berlioz e lo rivede e lo rivisita secondo la veste elettronica, che poi, se vogliamo dire, era la cosa che gli veniva particolarmente bene. Kubrick è molto soddisfatto del risultato, e Carlos, gasato dall'entusiasmo insolito del regista, ne scrive innumerevoli versioni secondo diversi mood, in modo da poter dare a Kubrick una sorta di library tra cui scegliere il mood giusto per ogni scena che avrebbe girato nel film. Ma Kubrick non gradisce, e poi alla fine succederà che di Carlos verrà utilizzata veramente pochissima, pochissima della musica che lui avrà scritto, lui scriverà decine di pezzi, ma ne vengono utilizzati circa 3 o 4. Utilizzare invece musiche di Bartók, di Pendereschi e di Ligeti ancora. Molte volte Kubrick cosa fa? Prende le musiche, le smembra, molte volte le mette una sopra l'altra, crea un effetto veramente disturbante, veramente allucinante, che però sarà una delle chiavi di volta del successo di Shining, nonché della sua cifra stilistica, estetica e artistica. Come avete visto, Kubrick continua a ritenere che non sia alla fin fine necessario avere una score originale fatta appositamente per i suoi film, e continua quindi a usare delle musiche preesistenti che mette nelle sue creature fatte di celluloide. La prossima puntata faremo il focus su 2001, Odissea nello spazio, forse il suo film più famoso, e vedremo come sono state utilizzate le musiche, di chi erano quelle musiche e soprattutto chi è stato il fortunato compositore che questa volta ha avuto la peggio nei suoi confronti. Alla prossima puntata!